Musica Strada della Contessa e lavori entro Natale, Anas annuncia l'aumento di fondi e la riduzione dei tempi di intervento sul viadotto. Per l'assessore di Fano, Eti e Luca Relli servono ristori per strategie di comunicazione e per chi subirà cali di lavoro. Cantiamo cinque mesi dall'alluvione. Sindaco lancio l'ennesimo appello. Servono tempi certi e risposte sulle risorse necessarie a far ripartire il territorio. Il comune è a un passo dal collasso. Il presidente Acquarogli annuncia in arrivo 96 milioni per comuni, famiglie e imprese. Sopraluogo a Muraglia per il nuovo ospedale di Pesora, Vallefoglie in corso e lavori per il nuovo Cinemateatro. Mentre a Fermignano si amplia l'asilo nido, sarà la prima struttura della provincia ad essere alimentata energia solare termica. Strade ridotte a un colabrodo, degrado ed erba incolta. Per Stefano Poligioni dell'Udc, il quartiere di San Lazzaro a Fano, è stato lasciato all'abbandono. Informazione, salute, sport, musica e commedie. Dal mese di marzo parte su Fano TV un nuovo paninsesto. Tra poco in studio il presidente Gino Bartolucci che illustra le novità della nuova stagione. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Apriamo il nostro telegiornale con i lavori di manutenzione della strada della Contessa. Ieri durante un incontro nella sede di Coffcommercio c'è stata una rassicurazione da parte di Anas che dimezzerà i tempi di intervento grazie all'incremento di fondi e di turni di lavoro previsto un ristoro per le famiglie degli studenti che dovranno utilizzare strade alternative. Il servizio di apertura è stato curato da Marco Lunigro. Svolta nei lavori di manutenzione straordinaria sulla strada regionale 452 che collega Fano a Gubbio. Al tavolo tecnico andato in scena ieri alla Confcommercio di Pesaro era presente l'assessore Francesco Baldelli che ha ribadito l'importanza dell'intervento per la messa in sicurezza di una tratta stradale interregionale e quotidianamente trafficata. Con Anas in una sola settimana, quella che è appena trascorso, abbiamo gestito le complessità. Le complessità di un'arteria fondamentale come la Flaminia e il passo della Contessa verso l'Umbria, verso Gubbio e quindi verso le 45, verso Roma in maniera molto attenta e puntuale. Per questo ringrazio Anas perché ha dato risposta concreta a tutto il pacchetto di richieste presentate dalla regione Marche. Questa arteria è fondamentale, tanto che nel masterplan delle infrastrutture stradali approvato più di un anno fa dalla nostra giunta, per la regione Marche quell'arteria è considerata un cardine fondamentale della maglia stradale marchigiana. I lavori sulla strada della Contessa avevano attirato l'attenzione di Confcommercio Marche Nord, che in collaborazione con la Confcommercio Perugia e Gubbio si è attivata con le istituzioni marchigiane per ridurre i tempi della realizzazione dell'opera ed evitare i gravi danni per le imprese del turismo e del commercio. Una chiusura che ovviamente porterà danni economici alle imprese della nostra provincia, particolarmente di Fano, Marotta, ma di tutta la via Flaminia. La regione Marche non era stata coinvolta minimamente in questo progetto di chiusura, di cui si parlava da tempo addirittura di lavori di 12-18 mesi. Sarebbe stato un dramma enorme. L'assessore Baldelli si è subito interfacciato con l'ANAS a livello nazionale. Le richieste che riguardano la diminuzione dei tempi dei lavori e anche un posticipo dell'inizio della chiusura della contessa per consentire almeno alle imprese di fare la Pasqua. Prezioso l'intervento di ANAS che ha riorganizzato il suo cronoprogramma e dimezzato i tempi di lavoro sulla viadotto Galleria al confine con l'Umbria. Inoltre nei prossimi piani industriali prevede di investire 60 milioni per rigenerare l'intera arteria fino a Fano. I lavori per il rifacimento del viadotto partiranno nel prossimo mese di aprile con la demolizione dell'impalcato, a seguire la posa di una nuova struttura in acciaio, la realizzazione della pavimentazione e delle barriere di sicurezza. Contraendo le lavorazioni con migliorie tecnologiche e con l'incremento dei turni di lavoro riusciamo a contenere i tempi di programma lavori restituendo la percorribilità prima del prossimo Natale. La viabilità subirà dei cambiamenti durante i lavori. I maggiori tempi di percorrenza sommano 15 minuti per i veicoli leggeri e 30 per quelli pesanti. Inoltre, come annunciato al tavolo tecnico andato in scena ieri, verrà messo in campo un ristoro per le famiglie degli studenti. Un incontro costruttivo ma che deve portare ad una risoluzione diversa. Lo ha affermato l'assessore al turismo del comune di Fanoetti e Lucarelli a margine dell'incontro di ieri sui lavori nella strada della Contessa. L'assessore ha sottolineato l'impegno di Francesco Baldelli ma crede che la riduzione delle tempistiche non sia sufficiente a limitare i danni che subirà il territorio. Ad oggi, infatti, molti Umbri scelgono queste zone per le loro vacanze, per gli scambi sociali ed economici e in tanti hanno acquistato seconde case a Fano e non solo. Quell'opera, ha proseguito Lucarelli, non costerà a noi solo i 6 milioni descritti dall'incontro, nell'incontro, ma con i danni causati molto di più. Ad esempio, vanno aggiunti dei ristori al territorio, cioè dei contributi economici per strategie anche di comunicazione che possano limitare il danno, poi eventualmente diretti a chi avrà evidenti cali di lavoro rispetto al passato. E all'incontro c'era anche il sindaco di Cantiano, Alessandro Piccini, che poi ieri sera abbiamo accolto nei nostri studi anche e soprattutto per tracciare un bilancio della situazione a 5 mesi dall'alluvione che ha provocato danni ingenti al patrimonio pubblico e privato. Non ha senso aggiustare una strada e un ponte se nel frattempo il paese muore, se nel frattempo muore quella tua socialità, muore l'economia e quindi la possibilità di occupazione, quindi di residenzialità sul territorio. È un territorio profondamente ferito che giorno dopo giorno cerca di ripartire. Cantiano è il comune della provincia pesarese più colpito dall'alluvione del 15 settembre scorso. Per fortuna non piange vittime, ma deve far fronte a circa 70 milioni di euro di danni provocati dalla furia dell'acqua e del fango. Il sindaco Alessandro Piccini, nel rispetto dei ruoli istituzionali, ha sempre fatto sentire la sua voce chiedendo celerità nei ristori. Durante la diretta del programma Primo Cittadino ha fatto il punto della situazione. È chiaro che non è immaginabile che di fronte a una catastrofe del genere si possano fornire da subito le risposte a tutti i problemi, però noi abbiamo bisogno di sapere, e lo ripeto, il quando e il quanto. Ci si deve dire quante risorse arriveranno, quindi in che percentuale rispetto ai danni subiti e soprattutto quando arriveranno, perché solo così potremmo orientare un meccanismo coordinato di ripartenza tra pubblico, privato ed attività di impresa. Perché anche l'imprenditore che per quanta tenacia abbia debba far ricorso magari a ulteriori linee di credito, che seppur agevolate strattasi di ulteriore indebitamento, deve avere di fronte un quadro certo di prospettiva, di ristori. Infatti, oltre ai danni al patrimonio pubblico, la piena ha invaso il centro storico, l'intera area artigianale, con la perdita di gran parte del tessuto socio-economico. Sono 61 le attività di impresa compromesse, cioè il 70% dell'indotto. La macchina della solidarietà, affermato il sindaco, ha fatto di più e meglio delle istituzioni. Ad oggi stiamo distribuendo delle risorse che abbiamo lanciato proprio con una raccolta fondi in quei primissimi momenti, quando ancora con il fango alle ginocchia temevamo quello che sta succedendo, cioè i ritardi del pubblico. E quindi con questa sottoscrizione che abbiamo lanciato e di cui ringrazio tutti i contribuenti, a partire dagli imprenditori del territorio, le associazioni, i comuni che hanno organizzato raccolte fondi a favore di Cantiano, fino ai tantissimi cittadini, fino alla ragazza che ha donato le due euro simboliche. Noi abbiamo raggiunto un qualcosa che supera il mezzo milione di euro. Di queste risorse, la prima parte, 290 mila euro, sono state già distribuite tra circa, tra appunto le 60 attività di impresa che dicevamo poc'anzi, in maniera a pioggia, toccando tutte le attività con una differenzazione che teneva appunto conto del codice commerciale di quella specifica attività. Ora, in questi giorni, stiamo cercando di chiudere con dei criteri di nuova distribuzione della tranche rimanente, circa 250 mila euro, e vogliamo anche distribuirlo tra i privati cittadini che hanno avuto dei danni alle proprie abitazioni, ricordo avere 136 prime abitazioni compromesse, ed anche in parte alle aziende agricole che vivono di questo lavoro. Ad oggi una trentina di persone deve ancora rientrare nelle proprie abitazioni. Emblematica la foto del sindaco, che all'ingresso del municipio indicava il punto in cui era arrivata l'acqua. Ancora più impressionanti, però, sono le immagini girate nel paese nei giorni successivi all'alluvione. Cantiano, ha detto il sindaco, nonostante le difficoltà tornerà a guardare con fiducia al futuro, ma c'è tanto da fare. Alcune strade, ad esempio, sono ancora interrotte. Abbiamo perso la possibilità dell'accesso al nostro massiccio più importante, ma non noi, tutta l'intera provincia perde l'accesso al Monte Catria, che per noi è la perdita del principale indotto turistico, da cui regge tutta l'agroalimentare, tutta la ristorazione, ma problemi anche molto più seri, tangibili, quotidiani. Non abbiamo più un sistema di depurazione, non abbiamo più delle condotte all'interno del capoluogo in grado di reggere una qualsiasi pioggia ordinaria. Il pensare di non avere i sistemi di depurazione nello scarico delle acque ai fiumi è un problema serio, a cui va data risposta immediata e non possiamo aspettare i tempi della burocrazia, perché nel frattempo c'è un problema anche di igiene, di sanitario. La struttura di un ente pubblico come il Comune di Cantiano, che consta di 13 dipendenti più alcune collaborazioni, è ormai da sei mesi a un passo, ripeto, dal collasso, perché stiamo tutti, compresi gli amministratori, gestendo una situazione anomala. A Cantiano non c'è più l'acqua, non c'è più il fango, ma i problemi in maniera plastica sono ancora evidenti e quindi ecco anche la capacità dell'ente di poter riprendere tutte quelle progettualità che erano anche in cantiere. Noi abbiamo abbandonato l'ordinario ormai da mesi, stiamo cercando con fatica di riprendere alcuni ragionamenti, ma va sicuro che la totalità del tempo viene assorbito da una gestione emergenziale che non trova, ripeto, precedenti nella storia amministrativa del Comune di Cantiano. E il Presidente della Regione Francesco Acquaroli. Oggi pomeriggio ha annunciato che sono stati accreditati dal MEFI i primi 96,7 milioni destinati a comuni, famiglie e imprese colpiti dall'alluvione. Si tratta della prima parte dei 400 milioni stanziati dal Governo. L'erogazione delle somme sarà avviata nel giro di pochi giorni. I fondi serviranno per ristorare i comuni per le spese sostenute per l'emergenza, erogare ai privati e alle imprese le prime misure di sostegno economico, rispettivamente 5.000 e 20.000 euro, ripristinare i tratti danneggiati delle reti acquedottistiche e fognari dei comuni del Pesarese, in modo da prevenire criticità igienico-sanitarie in vista della stagione estiva e realizzare ponti e tratti stradali danneggiati avviando la progettazione. Ed è stata emessa una nuova allerta meteo per la giornata di domani. La sala operativa della protezione civile delle Marche ha infatti diramato un'allerta di livello giallo su tutta la regione per criticità idraulica e idrogeologica. Sono previste precipitazioni diffuse più abbondanti durante la prima parte della giornata sui settori centro-meridionali e al pomeriggio su quelli settentrionali. Il limite delle nevicate invece è previsto attorno ai 700 metri sull'Appennino Pesarese e ai 1000 metri sui Sibillini e Monti della Laga. Dal maltempo alla sanità con il sopralluogo a muraglia dell'assessore regionale all'edilizia ospedaliera Francesco Baldelli, che oggi si è recato dove sorgerà il nuovo ospedale di Pesaro, erano presenti anche il subcommissario con funzioni di direzione sanitaria dell'asta di Pesaro Urbino, Edoardo Berselli, e i tecnici della regione e dell'azienda sanitaria. Avanza la procedura per realizzare un edificio moderno, ha spiegato Baldelli, inserito in un contesto paesaggistico particolare e di elevata qualità, che richiede grande attenzione nella progettazione ideato, a misura di paziente che nasce anche dall'ascolto delle esigenze di operatori sanitari e personale medico. Il tutto all'interno di un edificio, ha proseguito disegnato in base alle più moderne tecnologie, con soluzioni tecniche che sono il frutto della migliore ingegneristica italiana del settore. Cambiamo argomento, l'Udc Fano torna a riaccendere i riflettori sul quartiere San Lazzaro, che secondo il direttivo è stato dimenticato dall'amministrazione comunale. Sentiamo i dettagli nell'intervista a Stefano Poligioni. Oggi parliamo di San Lazzaro e purtroppo dopo dieci anni di amministrazione questo quartiere è stato totalmente abbandonato. Ha bisogno praticamente di tutto, non è rientrato neanche nel piano asfaltature di questo ultimo piano che la Giunta ha deliberato, se non in piccola parte è scritto via del ponte. Per quello che riguarda il resto ha bisogno di un restyling totale. Le strade, come già ho detto, non sono asfaltate da diversi anni, i marciapiedi, l'illuminazione, e il verde mancano tantissime cose. Ecco, non a caso oggi l'intervista, cioè queste mie dichiarazioni le ho volute fare in questo piazzale, che è il piazzale dove era l'ex mattatoio, che è rimasto da anni abbandonato, cresce l'erba e potrebbe diventare invece un parcheggio anche per lo stadio, perché qui noi abbiamo lo stadio, abbiamo il palazzetto dello sport, con anche dei percorsi che portano in quei luoghi e invece anche questo è un'altra opera che è rimasta totalmente in silenzio. Tra l'altro in questa via del fiume i residenti si trovano a parcheggiare sulla via creando delle strettoie e anche del pericolo per le autovetture che percorrono questa zona. Certamente non possiamo ormai chiedere all'amministrazione cosa intende fare, perché è un'amministrazione questa a fine mandato, quindi possiamo parlarne pensando al futuro e pensando che una futura amministrazione debba iniziare ad occuparsi anche di questi quartieri che sono stati abbandonati, così come anche le periferie. Vorrei chiedere a questa amministrazione, dalla quale ancora non arriva nessuna risposta, che fine ha fatto il famoso progetto denominato Pinqua, che sarebbe il progetto innovativo nazionale per la qualità dell'abitare che il Ministero per le infrastrutture e la mobilità sostenibile aveva già preannunciato nel 2020 e che proprio nel 2020 questo fu una passerella mediatica forte anche di questa amministrazione, un progetto che avrebbe riguardato una serie di lavori di restyling che questa amministrazione aveva annunciato per il quartiere San Lazzaro e il quartiere Vallato. Dal 2020 ad oggi invece non abbiamo saputo più nulla, ma non abbiamo più visto niente di quanto il sindaco Seri insieme alla sua giunta aveva annunciato. L'asilo nido di Fermignano allarga i suoi spazi. Il sindaco Emanuele Feduzzi ha presentato in giunta il progetto definitivo del nuovo asilo nido di Via Tronto che porterà ad 80 unità il numero di bambini che potranno frequentare la struttura, 27 posti in più rispetto agli attuali 53. L'opera finanziata dal PNRR per 2,2 milioni di euro prevede spazi flessibili e diversificati che potranno ospitare più attività in contemporanea e che porterà la superficie della struttura a più di 900 metri quadrati. La struttura sarà riqualificata dal punto di vista energetico e sarà in grado di autoprodurre circa l'88% del fabbisogno globale di energia primaria. Sarà la prima struttura della provincia detto Feduzzi ad essere alimentata ad energia solare e termica. I lavori verranno affidati entro la fine di maggio. Ci spostiamo a Valefoglia dove sono in corso i lavori per il montaggio della struttura in prefabbricato del nuovo cinema teatro Auditorium per la musica Giovanni Santi. Oggi nel cantiere di Bottega sono arrivate le strutture portanti del prefabbricato in cemento armato. A giorni si procederà al montaggio delle colonne e delle pareti del nuovo edificio che ha il suo completamento avrà una capienza di 336 posti di cui 220 nella sala principale e 116 con poltroncine removibili. A Pesaro invece arriva l'Euronite che collegherà la capitale italiana della cultura 2024 a Monaco e Vienna. Pesaro sempre più connessa al cuore dell'Europa annunciato sindaco Ricci. Un'ottima notizia per tutto il territorio che si arricchisce di un ulteriore servizio per i cittadini e per i turisti che vogliono spostarsi in treno, il mezzo più comodo, economico ma soprattutto sostenibile. Il nuovo collegamento internazionale sarà attivo durante il periodo estivo. A partire dall'11 giugno partirà da Ancona e arriverà a Monaco e Vienna. In Italia fermerà oltre a Pesaro, a Cattoli, a Riccione, Rimini e Bologna. Si viaggerà di notte con arrivi e partenze previsti per l'ora di cena e colazione con la possibilità di scelta tra posti a sedere, cucette da 4 a 6 posti o vetture letti con servizi in cabina. Grande ritorni e nuovi programmi. Da domani 1 marzo Fano TV cambia il palinsesso tra conferme e novità. Do il benvenuto a Gino Bartolucci, presidente di Fano TV. Buonasera Bartolucci. Buonasera a tutti. E Matteo Bottacchiari, in arte dottor Bottascio che a brevissimo inizierà a condurre un nuovo programma che andrà in onda su Fano TV. Presidente, dicevamo di queste conferme. Intanto partiamo. Naturalmente le conferme ci sono delle trasmissioni storiche. Naturalmente, occhio alla notizia, rimane alle 20.30 e la rassegna stampa alle 7 del mattino. Queste sono i removibili, che era il nostro paninsesto importante. Poi naturalmente abbiamo un po' ampliato la rosa del paninsesto. Primo cittadino tutti i lunedì alle 21.00. Naturalmente abbiamo ripreso questa trasmissione allargando tutto il territorio, alcuni sindaci non avevano mai partecipato al nostro primo cittadino. Al martedì è partita la trasmissione sportiva molto seguita. Abbiamo notizie dagli amici, da vari sport, dalle bocce, al rugby, alla scherma che va. Praticamente cerchiamo di includere tutti gli sport possibili del territorio. Rimarrà la Santa Messa delle 7.30 del mattino e i rosari, naturalmente un po' ridotti, però quello delle 6.30 del mattino rimane, quello delle 12 da Loreto e le 15 va il rosario alle 15. Poi il sabato sera andrà il rosario di Loreto, diretta da Loreto. Questo è quello che il mondo cattolico si aspettava e è rimasto abbastanza, un po' ridotto però è rimasto. Poi al venerdì va in salute, la trasmissione sulla salute che è partita venerdì scorso realmente e su questo naturalmente abbiamo visto che è importante coprire anche certe argomentazioni che si parla anche di salute. Esatto, intanto vi anticipo che ospiteremo nel corso delle varie puntate un fisioterapista, un osteopata, un gastroenterologo, una biologa nutrizionista, un esperto di sicurezza sui luoghi di lavoro, un medico reanimatore, saranno veramente tanti i temi che tratteremo. Benissimo, poi torneremo alla domenica che era una giornata un po' vuota, naturalmente abbiamo pensato di riproporre le commedie dei dialettari, il dialetto che ha Fano molto seguito ma in quello provinciale, noi a Tre Ponti poi facciamo, è tra i 12 anni che facciamo una rassegna dialettale estiva, però pensiamo che nel periodo invernale sia importante riproporre per gli amanti del dialettale naturalmente queste trasmissioni, queste puntate delle varie compagnie dialettali fanesi e non. Poi parte lo spettacolo musicale che Matteo sarà più bravo di me perché lui che è... Sì. Quando andrà in onda? Andrà in onda a partire dal primo di marzo, quindi da mercoledì e sarà una rubrica musicale interamente dedicata alla musica da ballo, questo mondo che durante il Covid ha subito un po' insomma una bella batosta e noi lo vogliamo portare nelle case di tutti insomma i marchigiani attraverso questa rubrica che farà scoprire in ogni puntata una delle più belle orchestre da ballo italiane. E sappiamo che la musica è veramente amata dai nostri telespettatori, un'altra novità è che alle 8 ogni mattina manderemo in onda una rassegna stampa nazionale. Esattamente, che non avevo citato, diciamo la rassegna stampa di solito eravamo abituati ad andare in replica con la nostra e invece dal primo di marzo andrà la rassegna stampa nazionale. Il paninsesto dunque dicevamo che partirà da domani, primo di marzo. Un po' rivoluzionato, però naturalmente era quello che avevamo promesso, avremo a breve anche il paninsesto giornaliero perché molti me lo chiedono nel dire cosa va al mattino nella giornata. Ecco, una delle novità che avremo prossimamente è quella di avere anche un paninsesto giornaliero dove il telespettatore giustamente si aspetta cosa andrà alla sera alle 9 o alle 10 o alle 11 di sera. Comunque siamo al lavoro costantemente per produrre nuovi programmi, ma non li annunciamo in questo momento. Grazie Presidente. Grazie a voi. Grazie Matteo. Grazie. Intanto questa sera come ogni martedì torna Sportissimo condotto da Andrea Maduzzi. Sentiamo le anticipazioni. Grazie Simona. Vetrina di Sportissimo questa sera dedicata alla pallavolo con la vigilar capolista del campionato di A3 tornata immediatamente alla vittoria domenica scorsa contro il Montecchio Maggiore. Saranno nostri ospiti l'allenatore Maurizio Castellano e il palleggiatore Nicola Zonta. Poi il calcio, un giro d'orizzonte sul campionato di Serie D e l'alma reduce dallo 0-0 di Termoli. E poi nel campionato di promozione con il San Costanzo, ultimo in classifica ma desideroso di risalire dopo la trionfale cavalcata dello scorso anno in prima categoria, accoglieremo Antonio Crespi, allenatore del San Costanzo e il direttore sportivo Claudio Vagnini. Infine la scherma, una realtà che si sta facendo strada a Fano e non solo. Nostri ospiti Sara Tonelli, atleta della Fanum Fortuna e Scherma e la direttrice tecnica Evelina Langella. Allora rimanete sintonizzati sul canale 19 di Fano TV. L'informazione torna domani mattina alle 7 in diretta con la nostra rassegna stampa Occhio e Giornali condotta da Massimo Foghetti domani sera alle 20.30. Il telegiornale Occhio alla Notizia. Buona serata. Il telegiornale Occhio alla Notizia.